Quando parliamo di BCE, pensiamo alle problematiche legate alla valuta, ai tassi di interesse che possono incidere sui nostri mutui. Quando parli di BCE, pensi a Draghi che ha abbandonato, ha lasciato perché il suo compito è terminato dopo diversi anni. Un compito arduo e positivo nei nostri confronti. Qualcuno lo vedrebbe addirittura come Presidente della Repubblica. Io non voglio far nomi perché ce n'è già uno e quindi quando uno è in carica non è bello andare a sfruculiare l'argomento. Ma oggi la BCE ci interessa perché è intervenuta autorizzando un'integrazione tra la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e la Banca di Credito Cooperativo di Monastier e del Sile. E io qui vicino, e ringrazio, i due Presidenti alla mia sinistra, Antonio Zamberlan, che è il Presidente della BCC di Monastier e del Sile. E abbiamo poi anche il nostro Presidentissimo della BCC Pordenonese. Partirei con l'ospite? Assolutamente sì. Proprio perché è l'ospite. Perché si è arrivati a questa, secondo me, positivissima integrazione? Veneto e Friuli, anche se possiamo dire che come Banca già abbiamo delle corrispondenze in Veneto. Intanto grazie dell'ospitalità e grazie che il Direttore dica positivo perché vuol dire che anche la stampa ha capito che noi non potevamo fare diversamente. Noi siamo arrivati a questo punto perché abbiamo capito che da soli non si può più stare. Nessuna banca del livello nostro può andare da sola. E quindi penso che abbiamo aperto una strada che dovrà essere percorsa sicuramente anche da altre realtà, soprattutto nel campo delle banche di credito cooperativo. I soci della sua banca come hanno accolto questa, ovviamente, proposta che poi è diventata decisione, immagino, con il Via Libera? Allora, è chiaro che il sentimento di appartenenza è importante e quindi i campanili, anche se non ci sono più tanti preti, funzionano ancora. Però quelli che noi abbiamo intervistato hanno sicuramente aderito al progetto tant'è che proprio anche per responsabilizzare maggiormente il nostro territorio siamo andati a trovare tutti i sindaci del territorio e non c'è nessuno che abbia dubbi sulla bontà di questa operazione. Quindi noi siamo tranquilli che questa aggregazione andrà sicuramente in porto nel momento in cui faremo ovviamente le assemblee in cui i soci dovranno esprimere il loro consenso. Presidente, quanti sono i soci della BCT Monastier e del Sile? Sono oltre 6.000 che sono stati, abbiamo raggiunto questo numero nel corso di questi anni di dura attività perché da sei anni stiamo lavorando proprio per rinforzare il comparto che riguarda i soci e direi che sono soci fedeli perché continuiamo tra l'altro a migliorare anche da questo punto di vista quindi abbiamo continue richieste di aggregazione. Io dico sempre che la BCC, lo dico da sempre, è la banca di casa tua perché banche che sono anche sorte e nate qui a Pordenone oggi hanno già ripulito metà nome poi tra un anno ne puliranno l'altra metà e quindi poi diventano banche a livello internazionale come è poi la nostra, la BCC Pordenonese ma del resto, Presidente, l'unità fa la forza 6.000 soci veneti e sono 6.000 soci veneti Sì, è vero e con i nostri 11.000 facciamo 17.000 soci 17.000 soci che tra l'altro sono dislocati su territori assolutamente contigui anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista socio economico quindi c'è una vicinanza che ci permette veramente di mettere insieme quelle che sono le migliori eccellenze dell'una e dell'altra banca che in un contesto economico dove hai una marginalità piuttosto ridotta mettersi insieme ci permette veramente quella di riuscire a mettere insieme le eccellenze ridurre quelli che sono i costi generali di gestione e di liberare delle risorse che ci possano permettere e dare la possibilità verso i nostri soci e i nostri clienti di avere un maggior contatto con loro Sì, 17.000 soci, 74.000 clienti, non sono numeri, non sono noccioline E 400 dipendenti 400 dipendenti, non dimentichiamoli che poi sono la forza della BCC Ma che come in ogni azienda industriale che si rispetti la differenza la fanno le persone non a caso vengano chiamate risorse umane Ecco, il lavoro che stiamo facendo ad esempio anche con i dipendenti è quello di riuscire a divenire appena ovviamente ci saranno tutti i passaggi statutari necessari per legge a divenire nel più breve tempo possibile in una struttura fortemente integrata dal punto di vista umano con dei progetti che sono già in corso e già in avvio proprio tra dipendenti collaboratori della BCC di Pordenone e della Monasteria del Sile che si stanno già parlando e che stanno già costruendo di progetti integrati per poter avviare sempre più velocemente possibile quella che è una unificazione di visione, di intenti e di struttura Oggi c'è stata insomma questa stretta di mano come si fa tra le nostre parti una stretta di mano, no? Una volta c'erano i sanseri che la sputtavano sulla mano ma a parte questo, quando secondo lei si arriverà ha detto giustamente dopo le assemblee al definitivo abbraccio? A gennaio noi saremo un'unica banca dopo ci sono le formalità, il notaio il passaggio di tutti gli aspetti diremo così pratici di tutte le operazioni di questo tipo ma noi già da metà di gennaio formalmente dal primo di gennaio i nostri bilanci saranno già i nostri conti saranno già assieme dopo c'è ovviamente la parte formale che verrà fatta verso la metà di gennaio ma di fatto noi con le assemblee che verranno convocate a metà dicembre saremo già un'unica banca Voglio fare un'ultima domanda ai due presidenti visto che voi avete il polso della situazione non si arrabbi qualcuno visto che il nord-est è parte trainante del paese Italia visto che qualche giorno fa ci hanno dato i dati la Confindustria e la Fulenzia Giulia dove viene sottolineato che l'export ha un più percentualmente mentre ci sono dei nuovi problemi in altri settori voi che avete il polso della situazione Presidente della BCC di Monastier e del Sile che futuro intravede? Ma la aggregazione che stiamo andando a chiudere ha proprio questa finalità di mettere assieme comparti diversi che migliorino le nostre performance cioè voglio dire agricoltura, industria artigianato, turismo sono tutte cose che faranno sicuramente crescere il nostro rapporto col territorio per esempio noi eravamo meno forti da un punto di vista per esempio del turismo perché non avevamo più le spiagge mentre la pordenonese le spiagge sono tutte cose che servono a migliorare ma soprattutto anche a compensare per dire periodi che possono essere meno produttivi di altri con altri che in questo momento per esempio abbiamo il discorso dell'agricoltura che va molto bene lo sappiamo col Prosecco sono cose che vanno aiutate di più ancora come farà certamente l'altra parte dove sa che bisogna intervenire quindi voglio dire io questa scelta questa decisione presa ci stiamo lavorando da marzo vero Presidente credo sia la cosa migliore da tutti i punti di vista noi cresceremo sicuramente medesima domanda non me la faccia ripetere Presidente ma allora certamente stiamo vivendo lei vive anche con tutti e due i piedi certo noi sappiamo che stiamo vivendo un contesto economico che è complesso e dove qualsiasi previsione che viene fatta anche a 6, 8, 10 mesi può essere in qualsiasi modo smentita e venga riposizionata è chiaro che dal nostro punto di vista scusi si interroga un po' quanto sta accadendo in Germania dove avevamo detto che la Germania stava scendendo dopo nemmeno un mese e mezzo sta risalendo quindi sono dati che bisogna sempre prendere con le pinze sono sempre devono essere presi con le pinze perché ti devono dare quella che è l'orizzonte cioè la visione di quello che dovrai andare a fare a breve però non devi mai dimenticare che devi essere estremamente flessibile attento ed efficace a cambiare direzione e dare un supporto diverso in qualsiasi momento questo che vogliamo fare noi come anche col progetto di aggregazione è quello di essere al servizio ancora di più con maggiori competenze con maggiori eccellenze verso le imprese che sono dopo i nostri clienti e i nostri soci e che sono quelli che per contro dando servizi ti danno la marginalità riuscire a sostenerli in maniera efficace ed efficiente avendo un orecchio anche con la riforma delle capogruppo e un occhio a livello nazionale ma soprattutto internazionale riusciamo a fare una banca del territorio con capacità di dare risposte anche a supporto ad esempio dell'export che è una delle cose che sta andando nel migliore di modi ringraziamo ovviamente però una domanda io la voglio fare a tutti e due sono presidenti di banca non è che sono con le micro tasse secondo lei tasse l'IVA non aumenta per la verità però andando così ad origliare non aumenterà ti sei dispettoso no ma qualcosa aumenta secondo il presidente della BCC di Monastier e del Sile io penso che il governo stia andando per una strada che cerca di raccimolare il più possibile temo che non andrà molto lontano con questo sistema non penso che risolverà i problemi dei conti io non ho forti dubbi anche perché ci sono le organizzazioni di categoria che si stanno su piedi di guerra di traverso penso al discorso per esempio della plastica questo è un tema che è già scottante io non so se il governo farà un passo indietro da questo punto di vista lei io credo perché poi ricade il tutto su di noi perché gli imprenditori giustamente non è che possano rimettersi nel fare la bottiglia in plastica o quant'altro ricade sul cittadino qualcuno ha detto sarebbe stato meglio forse aumentare l'IVA a questo punto perché tante tasse ma sarebbe stato un suicidio anche quello sì è chiaro che se il sistema statale più che mettere nuove tasse nuovi balzelli nuove regole deve recuperare in efficienza noi se riuscissimo a recuperare in termini di efficienza a semplificare l'impianto normativo avere un sistema giudiziario che ti dà tre gradi di giudizio in tempi ragionevoli solo il sistema Italia recupererebbe minimo minimo un 20% di costi ed è quello che noi diciamo spesso lo diciamo anche fuori dai denti se voi pensate faccio un esempio si parla tanto di ILVA l'ILVA risale al 2012 la situazione incredibile quando bloccano l'allora imprenditore Riva che era stato allettato ed era arrivato a Taranto avevano bloccato la produzione con un miliardo e duecento milioni di tondini bloccati perché erano corpo del reato sono ancora lì tra le altre cose siamo nel 2019 non c'è stata una sentenza nemmeno quella di primo grado e questo è un fatto importante per gli imprenditori che arrivano magari dall'estero due quando tu arrivi dall'estero e dici ok investo sulla BCC no e devi avere una clausola di salvaguardia perché magari qualcuno aveva sbagliato prima dal momento in cui tu entri e metti piede interno alla banca se io entro e poi mi tolgono la clausola al di là bene o male ma l'immagine che do all'estero all'esterno del paese Italia è strano burocrazia tempi più celeri per la giustizia e soprattutto che gli impegni presi da un governo non siano poi disdetti da un altro o disdetti magari da qualche forza politica che è entrata per la prima volta in un governo nazionale io devo essere super felice a questo punto di aver dialogato con due presidenti di due BCC una Veneta e una Friul Veneta Giuliana che si sono stretti la mano come dalle nostre parti fanno per dire mettiamoci assieme perché tutto sommato i romani dicevano dividit ed impera dividi e impererai ma se però qualcuno dice perché allungando la mano non ci mettiamo insieme e riusciremo a dare risposte molto ma molto più positive ai nostri clienti perché non farlo certo loro lo hanno fatto grazie ancora a voi e voi a casa che ci avete seguito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.